L'impresa Rieco si aggiudica a Termoli l'appalto per la gestione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta. La ditta pescarese primeggia su altre due aziende abruzzesi. Cambia gestione a Termoli il servizio porta a porta di raccolta differenziata dei rifiuti. La Teramo Ambiente dopo dieci anni passa la mano alla società pescarese Rieco per un appalto che supera i 4 milioni di euro l'anno. Il contratto stipulato è di sette anni. L'impresa industriale intascherà complessivamente una cifra vicina ai 30 milioni. La stessa ditta abruzzese ha presentato un'offerta per lo stesso servizio nei nove paesi che costituiscono l'unione dei comuni del Basso Molise, da Guglionesi a Campomarino, da Monte Cilfone a Dururi. Dopo cinque proroghe la Teramo Ambiente aveva tentato di riottenere alle buste il servizio porta a porta nel maggiore centro sull'Adriatico della regione. Ma la sua offerta a Palazzo Sant'Antonio è stata reputata più bassa. Non ce l'ha fatta neanche la Tecneco di Avezzano, la terza azienda interessata all'appalto, che fra l'altro a fine aprile lascerà il Molise per la gestione del servizio di raccolta differenziata con l'unione dei comuni del Basso Biferno.